Francesco, giusto? Sì, sono io Vieni, vieni, ti aspettavo Allora vieni, qua abbiamo la stanza con la musica zen insonorizzata per fare finta di ascoltarle Ah, che ti servirà E poi invece qua abbiamo un divano che come puoi vedere non ha la playstation, non ha i videogiochi, non ha nemmeno la televisione Così imparerai a vedere un divano non come una sala giochi E invece questa, questa è la sala finale per la prova d'esame Ok, ma una cosa, quanto dura il corso? Beh, tu quando ci metti a imparare a dire scusa hai ragione tu Ragazzi è tutto molto semplice, sono quattro semplici parole Scusa hai ragione tu Riproviamo tutti insieme a tre Uno, due, tre Scusa hai ragione tu No, non ho capito Rifacciamo No, non ho capito No, non ho capito No, non ho capito